Bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video in cui facciamo una pinnacoli challenge vi faccio vedere subito perchè Rocco sta... ah perchè sta il nome? si l'ho segnalato oh doio vi faccio vedere aspetta che avvicino un po' la visuale se non vedete un cavolo ok così l'avevi detto che ti piace? ah ok ok eeeh vedeva con la griglia che ti piace? si allora ti piace più la mitraglietta tattica eeeh la raffica scusa non c'è... c'è uno là! oh doio calmati non è che muori c'è gente in volo no io mi coprirei ma cosa c'ha devi combattere questa ragazzi è una pinnacoli challenge quindi dobbiamo andare per forza a pinnacoli dove moriamo? qualcuno? si c'è qualcuno e se ci vai meno fai vedere a tutti che fai una kill prima e mo siamo morti malissimo forse è l'ennesimo video che facciamo che ci stanno delle pubblicità che bloccano i video eh però è delle pubblicità stupide la verità prima mi ha fatto una pubblicità di un gioco si però al treno al treno raga scusate che muovo la visuale però stare immobili fidatevi è difficile aspetta ma se io la poggio qua così così si muove molto di meno ma poi questa va al tuo canale cosa? c'è uno c'è uno hai visto uno cioè dove l'ho visto? vai valla a pushare vai non è che è più forte di ninja no adesso è nabissimo non ci credo se lo uccidi quanto è nabbo oddio quanto è nabbo raga prima kill era più nabbo di non so chi e non so cosa amore mio quando mi se ne hai fatto danneggia vabbè roi barrette non lo sai usare per piacere oh ma perchè? vabbè si vediamo come fa una kill col cecchino come costantino che si è buttato da un palazzo ma che cosa? è per 50 di shield vabbè si si bevilo bevilo poi trovi uno shield da 50 quanto ci vuole così non la spregalo si si va bene ma insomma è che quando gli shield è bene ma che cosa? i shieldini sono me vabbè si si no 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 non ti preoccupo non ti preoccupo non è che non sai giocare no raga ditemi se la caraffa la c'è ma per 50 di shield si adesso trovi uno shieldone a 50 domani va bene le puzzolenti le puzzolenti ragazzo provando poi ho uscito un altro eh? no no perché non metto a fuoco ecco ok c'è una ma che ti spacca se è salito che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto e si salì più mori via gesù ha fatto pure il rio ah! uuuuuh uuuuuh ma spara a cavolo c'è quello che ti ha colpito a cacchio ti ha colpito ma dov'è? è un hub ma guarda che ti viene in goccia sta verso destra c'è anche la zona guarda 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 se è pure in volo vedete la zona è fuori guardate le sue armi molto belle che è impossibile trovare tutto questo ha fatto una kill eh sì questo lo sapevamo lo riesco porco ecco uuuuuh calmati mi sapeva fa pure Matteo eh raga io sono un mo ma è più un Napoli non so chi ma perché hai trovato tutti i nabbi facciamo che non la facciamo facciamo che non la facciamo la pinnacoli challenge no non è ammazzato nessuno ci stai da mezz'ora in un palazzo ma ti rendi così raga non voglio tagliare il video perché stai incontrando tutta gente tutta gente che stava a pinnacoli più che altro chiopriti chiopriti eh rimani qua uiii ok raga sto guardando sia dal telefono sia da dallo schermo vabbè è uguale quello che ho detto cioè sia dal telefono sia dalla tv dalla tv Grazie a tutti.